buongiorno amici e benvenuti in questo nuovo video dedicato a sansei awakening oggi mercoledì 9 novembre è uscito il banner di gemini con armatura e surplice di saga di gemini è arrivato finalmente nel banner global e questo video sarà video pool vediamo se siamo fortunati con questo personaggio anche se ho visto in giro che sia magro di frammenti che il drop rate è molto molto basso quindi la vedo la vedo dura oltre al banner di saga di gemini in versione surplice sono fitti anche un po di eventi che nuove ma ora cominciamo con il pool mi o mo cta sir da e e e e Grazie a tutti. o meno con questo personaggio, personaggi che aspettano tutti, tutti vogliono l'hype alle stelle perché è il personaggio preferito della lore, ma ora partiamo con i punzi, due frammenti, 1-A e 2-B, vabbè, vabbè, top, vedi belcissimo, due tiri e via, gente, altro frammento, 4-B, 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 vabbè, 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 vabbè al di là del banner, ma qualche S, no? Cosmico, due frammenti Beh che bisogna risparmiare per mani gold Forza, dai Gemini Vabbè, Underwon Shun che non fa mai male Il garantito toro, anche no No, vabbè il fratello, dai Siamo vicini Canon in versione Cavagliere del mare Siamo in aria Gemini Due frammentini Eccolo? No Vabbè Siamo sempre lì vicini con la Gemini Solid Siamo lì Siamo vicini, vicini Nulla Qui, vabbè La Sagra del B Vinti 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 Niente Vinti Niente Vinti 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 qui un altro un altro canon in versione dragone del mare diciamo due però sono sempre lì potrebbe essere la svolta qualche surface potrebbe attenzione spostiamoci un po' magari si sveglia fuori è che bisogna risparmiare non c'è da fare non frammenti abbiamo un po' vari di frammenti ancora nulla due frammenti siamo a 39 quindi non c'è un po' 81 per Shardaro preferirei trovarlo è Shardaro nulla qui è saga ma non quello giusto perché? vabbè dai dai che ci siamo è caldo è caldo per me esce esce tra poco dai eccolo lo vogliamo zero neanche una vabbè un po' risistemato il drop trade perché qua c'è poca roba Sirio doppio Sirio attenzione dai che c'è dai che c'è non c'è niente da fare non male sono tutti così frammenti almeno staglia 4 buono buono almeno lo consoliamo con i frammenti però voglio trovarlo non voglio far danno vai ancora Castile l'ho già fullato ora davanti non mi serve a niente ho messo la fitta e già 300 fennix cavallo 4 frammenti buono cristal la barriera la barriera ahhh ne è iluso speravo di trovarlo sotto i 300 invece davvero grigia no mamma mia non ci siamo ma non ci siamo dai su però vogliamo che ci staga la surplice questo abbiamo sognato di notte quando è stato annunciato nel china un po' di frammenti oh un altro SS e X niente magra magra ma dove sono gli S al di là del bando sono gli S gli SS il hypnos il tanatos e 4 dai che c'è dai che c'è dai che c'è olè full B molto bene molto che magra ma che magra che banner magro di soddisfazioni esifone guilty damian 0 00 00 stiamo stiamo scendendo su questa scoglia delle per il gatto o maglie S è il banner maglie S almeno SS niente 0 frammenti ci vuole pazienza qua ci vuole molta pazienza molta doppio icchi tensione 4 frammenti e mi sa che qui c'è charda eh la vedo la vedo grigia qui charda saga mi sa mamma mia che tristezza siamo qui in soglia gatto toccerà farmare l'advance addio addio su su è anche ora di smollarlo questo saga eh gioca ragazzi ma gli S dove sono finiti gli SS tolti dai banner togliamo saga togliamo saga dai dai guilty fenix agli S pariti pariti completamente è un banner zero frammenti banner tristissimo speravo di trovare chissà che invece chissà che veramente oh un fiucco l'amico un fiucco è uscito attenzione che sia la svolta come fiucco saga su piccene lo stesso tu no bello 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 dai 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 fiucco e saga dai stai mi accolte mi accolte forza forza dai su un fiucco e e e niente un fiucco e basta è un frammentino un frammentino stiamo scendendo con le advance molto molto male e nulla cosmico ma ce l'hai garantito ma l'hai garantito è pazzo che tristezza ai 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 quasi shard ho già capito non mi dai la gioia di provarlo che tristezza due shard sa che tra poco ci si ferma e si sharda mannaggia io quello volevo trovare invece il nulla il nulla io poi niente esso pochissimi poca roba allora cos'è sta roba 3 shard mi gioco a tutto bene ragazzi qua si sharda mi spiace mi sa che proprio mi tocca shardarlo oh un toro ma perchè toro me l'hai già dato gratis basta toro attenzione eccolo tante oro qui ci siamo la volta buona 106 shard 106 shard e si sharda un altro saga non giusto non supplice niente ragazzi si sharda è andata male è andata male sto giro purtroppo che tristezza dai dai l'ultima 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 almeno prima prima della fine è la gioia niente da fare 3 shard in teoria è andata troffi due a 120 e poi io c'ho la amicizia faccio la seconda copia non è sotto un bagno di soldi almeno ma il terzo non ci credo 3 e neanche un laga sur ma la la stiamate il drop rate per favore che è ridicolo mancano pochissime 3 e 47 600 ha pullato il 600 via in 600 non l'abbiamo trovato incredibile cioè boh una ne manca l'ultimo tu? l'ultimo andiamo a casa? ci felici? ok possiamo shardarlo però me la sento deve sembrare di viare però me lo devi dare dopo manco 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 la versione divina dopo normale vergogna vergogna possiamo shardarlo oh io lo voglio pillare una questione di principio una questione di principio un frammento 290 advance 290 advance 290 advance oh alleluia 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 290 pass advance adesso facciamo il conteggio e vediamo quanto ci è costato questo personaggio che tra l'altro bellissimo ma con mani lungo alle porte e l'incognita del prossimo personaggio ci investirò il minimo sindacale che vedremo nel prossimo video come come lo skillerò e come lo cosmerò pergamina eh si va bene bello bello ma che bagno di sangue vediamo vediamo quante quanto ci è costato questo personaggio esattamente esattamente più di 300 più di 450 640 mamma mia vabbè è stato è stato un pool intenso ragazzi per questo video è tutto iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e noi ci vediamo al prossimo video ciao